Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore, considerato uno dei più innovativi nell'area della seconda avanguardia teatrale italiana, lascia Firenze e la sua compagnia Teatro Studio Cripton, fondata nel 1982. La decisione è stata presa dopo che la compagnia, dal 2016, è caduta nel vuoto, dice, senza l'appoggio delle istituzioni. Nonostante tutte le mie proposte, non ho trovato nessuna risposta che potesse dare continuità a quello che io avevo imparato in questi ultimi 40 anni e che avrei voluto trasferire con cura alle nuove generazioni nell'ambito del teatro, della ricerca, della sperimentazione. Uno strappo per il maestro che non potrà essere ricucito. La resistenza ha un limite perché io non sono più un ragazzo come ai tempi dell'Eneide, quindi sono stanco, sono deluso ed è bene che vada via.